Ed eccoci signori e signori un altro appuntamento con i bug di Assassin's Creed, guardate qui la guardia che lo colpisce da dentro il muro, vedete il colpo della guardia che attraversa il muro, avete visto? Vedete che colpisce il muro e l'assassino cade nell'acqua, guardate ancora una volta, complimenti altro bug di Assassin's Creed 2.